Siamo con il professor Tommaso Formichelli che qui a Palazzo San Francesco presenta il suo ultimo lavoro dal titolo Nobili e proprietari a Iserna nell'ultima età della monarchia, 1806-1946. Professore, come l'alienazione dell'asse ecclesiastico, le versioni della feudalità hanno in qualche modo cambiato il tessuto economico ma anche sociale della città di Isernia? Sì, con l'arrivo nel febbraio del 1806 dei francesi nel Regno di Napoli l'arrivo di Giuseppe Bonaparte che entra a Napoli il 15 febbraio del 1806 i principi della rivoluzione francese vengono importati nel Regno di Napoli e di conseguenza cambia completamente tutta la realtà giuridica innanzitutto e poi sociale ed economica della città di Isernia ma del Regno di Napoli in generale. Prima di allora avevamo innanzitutto nel Regno di Napoli tantissimi feudi a seconda dei calcoli erano poco meno di 2000, dei 1800-1900 2000 feudi pochissime città regge, cioè libere appartenenti al demanio reggio 70 nel Regno di Napoli e 42 nel Regno di Sicilia quindi in queste città regge già esisteva una proprietà allodiale vale a dire una proprietà libera senza i vincoli propri della proprietà feudale che unisce a prerogative e facoltà privatistiche anche poteri pubblicistici di carattere giurisdizionale, la possibilità di riscuotere le tasse e di esercitare anche il controllo del territorio. Quindi contestualmente era molto esteso l'asse ecclesiastico anche se il Borbone attraverso il Tanucci che divenne con Ferdinando IV di Borbone primo ministro diciamo, l'equivalente del nostro primo ministro nel Regno di Napoli già era stata contenuta la proprietà ecclesiastica comunque era molto vasta. I francesi iniziano a emanare queste leggi che di eversione sia della feudalità sia della proprietà dell'asse ecclesiastico.